Diamo un occhio al menu principale del decoder premium on demand HD Dal menu principale possiamo accedere alla guida tv dove vediamo l'elenco dei canali con i programmi ora in onda e i programmi successivi Nel sottomenu imposta decoder invece possiamo impostare le varie opzioni di configurazione tra cui gestire i canali Quindi a riordinarli se l'ordinamento non ci piace oppure a cercarne di nuovi Possiamo impostare l'immagine in formato 16 noni oppure adattare lo schermo o fare stretch dell'immagine L'impostazione del colore nel caso usiamo l'uscita SCART Nell'impostazione audio possiamo scegliere se far uscire il segnale audio in Dolby Digital 5.1 oppure stereo nel caso di collegamento diretto a un televisore E se abilitare o meno il ritardo audio sull'uscita CDMI Nell'impostazione CDMI possiamo configurare la risoluzione di uscita tra 1080i, 720p oppure 576 interlacciato progressivo In formazione del decoder abbiamo informazioni generiche sul sistema e le informazioni sulla tessera inserita Se passiamo invece alla sezione Premium On Demand possiamo farlo anche attraverso l'apposito tasto sul telecomando Abbiamo l'elenco dei film divisi per genere, per serie tv oppure un elenco completo di tutti i film In questo caso vediamo che i titoli in altra definizione sono contraddistinti da un loghetto HD posto nella parte in alto a destra della locandina Se selezioniamo un titolo possiamo anche vedere una serie di informazioni come genere, gli attori, la regia e un piccolo riassunto della trama Accedendo al film queste informazioni sono comunque disponibili premendo sempre il tasto info Ovviamente trattandosi di un contenuto pre-registrato, in questo caso da On Demand HD Vediamo che il logo in basso a destra non è il logo classico di Premium Cinema HD Ma il logo specifico di Premium On Demand HD Se invece proviamo ad aprire un contenuto non in alta definizione Notiamo che invece la registrazione è avvenuta direttamente dal canale trasmesso in diretta sul digitale terrestre